Cambio di sede per la moschea di Battipaglia, che da via Ripa si sposterà nei locali di un ex supermercato in via Benevento. La decisione scaturisce dall'aumento dei fedeli che si raccolgono in preghiera, tale da rendere non più rinviabile il trasferimento, che si dovrebbe concludere nel giro di pochi mesi. A criticare tale scelta è il consigliere comunale di Forza Italia, Valerio Longo. Una zona altamente popolata, afferma l'esponente forzista, senza parcheggi, con tutti i problemi legati ad una viabilità già problematica. Persone provenienti da altri continenti che chiedono di essere rispettate nelle loro abitudini e tradizioni. A quando l'abolizione della processione alla festa patronale? Nel solco della scristianizzazione della nostra società, della perdita di tradizioni e identità.